segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è possibile l'eletta ha lanciato un'appella un'opposizione unitaria ma potete essere uniti su questo tipo di posizioni beh non lo siamo stati uniti con il governo insieme quindi vedo difficile proseguire le posizioni restano così diverse la cosa che a me colpisce è che nel momento in cui la difesa ucraina fa dei passi in avanti sul terreno molto forti molto visibili molto giusti perché si liberano chilometri e chilometri di territorio ucraino e nei territori occupati si scoprono fosse comuni segni di torture deportazioni quindi si si vede anche la necessità di liberare i territori perché l'occupazione russa è terribile sanguinosa violentissima intollerabile per la popolazione ucraina ecco nel momento in cui la strategia di difesa ucraina dei successi ci sono voci come quelle di stefano patuanelli che dicono che è il momento di fermare tutto che sono gli stessi dubbi un po che si sentono sulla guerra anche a mosca ecco mi colpisce questa cosa mi colpisce molto cioè quello che stiamo facendo finora cioè il sostegno alla capacità di difesa dell'ucraina e le sanzioni alla russia stanno mettendo in tensione la russia perché dal punto di vista militare dimostra di non essere invincibile perché dal punto di vista del fronte interno ci sono le prime crepe io credo che in questa strategia si debba proseguire cercando di proteggere i nostri cittadini dagli effetti più negativi della guerra sia dal punto di vista economico che della sicurezza allora il momento di non mollare altre notizie una riguarda lo spread che apre a 238 punti ed è in rialzo lieve rispetto alla chiusura di ieri ci dicono le agenzie mentre partono in calo per timori di recessione le borse europee è è è